Bene, ai fianchi, a fondo e in avanti, attenzione, 1, via, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, via, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Vai, ripasciamo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, via, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. laterale, lato, non è che c'è il mare anche di là, no? Il mare no. Eh, secondo me ci viva, eh, occhio. Vai, giù, uno, due, di tre, di quattro, di cinque, di sei, di sette, di otto, nove, di dieci, via. Vai, giù, uno, due, di tre, di quattro, di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove, di dieci, via. Ciao. Adesso, esatto. Lato, portati in là, vieni all'indievole. Vai, uno, due, tre, di quattro, cinque, diamola ad otto, sei, di sette, di otto, nove, dieci, buono. andiamo là 1 2 3 4 5 5 5 5 6 3! 1 immergo 2 3 5 ok 15 su erco 8 10 15 Sì, è molto importante. Quanti ne vengono fino a fondo eh? Buono, sì Quanti ne vengono? Giorno, si vengono, nu vengono, nu vengono,決定 karmula al Narendra, Narendra, da ci vengono, allora questo ruota e scoperti? No, no, inizia il ruota che vengono, no, inizia il ruota che ci diamo. Quanti vengono, non? No, inizia! Sì, 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 sì. Vediamo che questi gonfian le gambe. Vai, sì Ale, su, uno, bravi, due, sì, tre, sì, quattro, sì, cinque, sì, sei, sì, sette, sì, otto, sì, nove, bravissimi. Ok, recuperate un attimo, vedete un goccio d'acqua. Grazie.